Allora, dicono a Valenza 18.000 abitanti. 18.000 abitanti è una piccola cittadina. Tanti si riscono e dicono che a Valenza non c'è niente. Venite a vedere che cosa si può trovare a Valenza. Venite a vedere questa lì. È una cosa che... Guardate che pezzi c'è, ci sono a Valenza, che pezzi si possono trovare anche a Valenza. Un vaso completamente fatto a mano, meraviglioso. Sarà 45 centimetri. È una cosa completamente fatta a mano, meravigliosa. È una cosa incredibile. Questa è Valenza. Valenza è anche questo. Non soltanto gioielleria, non soltanto pezzi importantissimi di gioielleria, ma anche argenteria. Argenteria dà un valore veramente incredibile, con delle manifatture spaziali. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Guardate che oggetti incredibili. Oggetti completamente fatti a mano, di argento massiccio. Non è silver plated, non è metallo argentato, né peltro. Questi sono tutti argenti fatti a mano che potete trovare a Valenza, in via Camurati 9, da Arva. Guardate che meraviglia di articoli. Guardate. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.